Potremmo dire che i tempi delle pale eoliche o dei pannelli solari per produrre energia rinnovabile pulita sono ormai superati. Ora ci pensano le alghe. Sì, avete capito bene, il progetto ambizioso è stato presentato all'Unical. La sperimentazione invece è stata fatta nella Locride, a Marina di Gioiosa Ionica, dove è stato realizzato un mega impianto di produzione. Stiamo cercando, e ci siamo riusciti, di produrre le alghe in fotobioreattori che sfruttano praticamente l'energia del sole per fissare il carbonio all'interno delle alghe mono e policellulari. Questo impianto è il più efficiente oggi esistente forse al mondo, direi che senza voler fare troppi annunci eclatanti, però è una cosa sulla quale contiamo molto. I risultati sono stati soddisfacenti, soprattutto in termini di produttività di biomassa. Le alghe presentano diversi vantaggi. Sono organismi semplici che si adattano alle diverse condizioni di crescita e possono essere coltivate tutto l'anno. L'idea è stata quella di effettuare una diversificazione del business, venendo da un business completamente diverso. L'idea è stata quella di costruire un partenariato che avesse come focus il mondo delle energie rinnovabili, principalmente perché tematiche come l'efficienza nell'utilizzo delle risorse naturali, piuttosto che le energie rinnovabili e la sostenibilità sono tematiche sulle quali tutte le aziende dovranno confrontarsi nei prossimi anni.